Si dialignano le gerarchie nel campionato di Cigold pugliese di palacanestro maschile in attesa di una giornata che potrebbe dire tanto. Nell'ottavo turno intanto non c'è gloria per nessuna delle squadre viaggianti, tornate tutte senza punti dalle rispettive trasferte. Merito anche del valore delle compagini di casa, su tutte la capolista palacanestro Lupalecce, che ha superato Sunshine Vieste per 89-76 con 24 punti di Brajkovic e 17 di Durini, mettendo il turbo dopo l'intervallo. Il successo di cestistica Ostuni contro Monopoli per 79-59 vale invece l'aggancio in seconda posizione per la squadra di coach Romano, in attesa della classica di Ruvo di Puglia. A ruota segue al quarto posto Cus Ionico che regola nuova palacanestro Monteruni per 93-84, nonostante i 30 punti di Raupis fra i salentini. Sugli scudi per i tarantini Simaitis con 28 punti e Dussels con 21. Allerta anche nuova palacanestro Ceglie e Francavilla, che piazzano il quarto successo stagionale ed agganciano Libertas Altamura, sconfitta a Castellaneta. Netta l'affermazione dei giallo-blu contro Mola, un 82-52 con 22 punti di Kvetanovic e 16 dell'ultimo arrivato Sabekis. A Francavilla invece arriva un nuovo K.O. di Ruvo, nonostante il prepotente ritorno nel terzo quarto. Dyson e Calò trascinano i compagni con 21 punti a testa e i ragazzi di coach Patella si arrendono sull'89-83 nonostante i 27 punti di La Quintana e i 20 di Bagdonavicius. Due squadre messe alle spalle, altre tante agguantate a quota 6. Questo è il peso specifico della vittoria di Rospetto Valentino contro Altamura. Un 86-76 che vede la squadra di Leale in controllo costante grazie anche all'apporto realizzativo di Mihailov e Petraitis, quasi 40 punti in due. Fra gli incruci più interessanti del prossimo fine settimana da segnalare anche Monopoli Ceglie e Lecce Francavilla.